Allora, intanto avrete notato che molti di questi medici non hanno voluto farsi riprendere perché ovviamente sono dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e magari hanno in qualche modo poi paura che qualcuno possa fargli delle ritenzioni. Io ho capito, guarda caso, però tutti a favore, non c'è uno a favore, è statisticamente impossibile. No, perché dicono che mancano i soldi, però questo ci può portare all'altro grande vicino. Siccome abbiamo un racconto...